Il post-pandemia e il conflitto in Ucraina sono tra le cause che hanno portato all'aumento dei prezzi per alcune categorie di prodotti con percentuali di rincaro shock. Se ne è occupata Damiana Sgaramella. Sulla base delle rilevazioni dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico e da uno studio della Col di Rettipuglia, è stata stilata una blacklist degli aumenti sullo scaffale nella città di Bari in sei mesi da settembre 2021 a marzo 2022. L'inflazione è partita già nel 2021 nel periodo del post-covid, aggravate poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina e dal caro bollette per l'aumento dei costi dell'energia che hanno inciso fortemente sui prezzi del carrello della spesa nel capoluogo di regione pugliese. Sull'onda emotiva scaturita dallo scoppio del conflitto, la Col di Rettipuglia precisa che sono aumentati i volumi di acquisto di alcune categorie di prodotti come zucchero, pasta di semola, farina, riso e olio di semi, ma anche di conserve di verdure, legumi, carne e pesce che garantiscono una scadenza maggiore. L'Italia è deficitaria in molte materie prime e produce appena il 36% del grano tenero che serve per pane, biscotti e dolci. Il 53% del mais per l'alimentazione delle stalle, il 56% del grano duro per la pasta e il 73% dell'orzo, quindi per tali ragioni, è costretta ad importarle. Alla luce di questi dati è l'intera filiera agroalimentare ad essere colpita duramente con i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori che non riescono ormai a coprire i costi di produzione. Infatti, più di un'azienda agricola sul 10% è costretta a cessare la propria attività, ma circa un terzo del totale nazionale continua a lavorare in una condizione di reddito negativo. Ed infine per la Col di Rettipugliese è necessario intervenire per contenere il caro energia e i costi di produzione, con interventi immediati per salvare aziende, stalle e strutturali per programmare il futuro. Tra le soluzioni proposte c'è quella di lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole e industriali con obiettivi qualitativi e quantitativi precisi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione, come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni.